Le ginocchia saranno appoggiate ai poggiaspalle e le mani saranno appoggiate lungo la struttura delle forme. Allora, nell'esercizio che abbiamo appena fatto un attimo fa, la parte attiva era quella di spinta, adesso quello che creiamo è una trazione, quindi le braccia saranno attive e la cosa interessante, una volta ancora, sarà provare a mantenere questa parte sempre ferma. Quindi, immaginando di non avere le gambe, provo a non usare le gambe per ora, tiro il carrello verso avanti solo dalle braccia, quindi le spalle si spostano indietro, tiro verso avanti, sento tutto bello attivo, le ginocchia restano allineate sotto il bacino, benissimo, e lo ripeto un paio di volte, le spalle sono indietro, ritorno e ancora uno. Ovviamente, lavorando magari con degli uomini o con delle persone un po' più grandi, posso usare più resistenza, adesso abbiamo solo la molla blu. Da qui proviamo ad incentivare una maggiore attivazione di questa zona con la gamba destra tesa indietro, in linea con la schiena. Quindi sollevo la gamba, provo a mantenerla qui e saranno di nuovo tre spostamenti del carrello. Quindi tiro in avanti dalle braccia e ritorno. Ancora due, soffio fuori l'aria, tiro. Il movimento penso che parta dalle spalle che arretrano. Torno in avanti. Adesso chiudo il carrello. Chiudi pure. La gamba resta. Tenendo l'equilibrio, organizzandomi bene sopra, stendo in avanti il braccio opposto e provo a mantenere la posizione.